Un invito a ritiro con conseguenze è ordine del giorno, perché quando lui parla di situazioni eccezionali è un termine troppo generico, in quanto se riguardano le calamità c'è l'ordinamento a parte, magari con un ordine del giorno si potrebbe entrare nel merito di questa proposta, altrimenti parere contrario. 7,56 Zaratti contrario, 7,55 Rondini parere contrario. Andiamo anche all'aggiuntivo, 7,050. 7,050, Caparini contrario. Perfetto. Onorevole Rondini, chi c'è lì davanti? Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, 7,50 favorevole, 7,51 favorevole, 7,52 favorevole, 7,60 ci rimettiamo all'Aula, 7,54 favorevole, 7,61 favorevole, 7,56 ci rimettiamo all'Aula, 7,55 favorevole. E anche il 7,050. L'aggiuntivo? Sì, scusi. Sì, favorevole, tu non è. Governo. Parere conforme al parere del relatore di maggioranza. Perfetto. Passiamo quindi agli emendamenti relativi all'articolo 7,7,50 Rondini, contraria la Commissione Governo, favorevole relator di minoranza, contraria la Commissione Bilancio, votazione aperta. Azz. L'aspettiamo. Ci siamo? Signorevole Colonnese, ecco, con le dita è più tranquilla la cosa. Altri? La votazione è chiusa. La Camera respinge, 7,51 Rondini, contraria la Commissione Governo, contraria la Commissione Bilancio, favorevole relator di minoranza, votazione aperta.